Il 13 giugno del 2022 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo nazionale per l'industria chimica farmaceutica. I firmatari sono ovviamente le tre organizzazioni sindacali, il PGL, Femca CISL e Wiltequil e le organizzazioni datoriali firmatarie sono Farmindustria e Federchimica. Si tratta di un rinnovo estremamente importante perché comunque influenzerà la vita di più di 200.000 lavoratori italiani e quindi parleremo dei contenuti di questo rinnovo con Daniele Bailo, parte della segreteria nazionale della Wiltequil. Buongiorno, grazie tutto. La prima domanda è la seguente. Le vorrei chiedere come si è arrivati alla firma di questo rinnovo in uno scenario complesso come quello attuale e soprattutto quando è stato importante chiudere la trattativa in anticipo sulla scadenza del rinnovo precedente. Sì, come siamo arrivati è figlio della modalità con la quale noi perseguiamo un confronto continuo, per cui alla scadenza del contratto di fatto lavoriamo immediatamente per il contratto successivo, ovviamente non il giorno dopo. Però la costanza con la quale ci sono confronti a livello di osservatori nazionali è anche una certa pratica che recupereremo, anzi l'abbiamo sottolineata in questo contratto, di osservatori a livello territoriale, cioè itineranti. Li muoviamo sul territorio, incontriamo rappresentanti sindacali, rappresentanti aziendali delle imprese che insistono su quei territori per ragionare, per valutare se l'impatto delle linee di indirizzo, delle linee guida che noi inseriamo nel contratto. Questo lavoro non si interrompe mai e favorisce anche un processo per la quale non c'è una discussione da iniziare e ragionare nell'arco dei mesi per cui siamo in scadenza e dobbiamo andare al rinnovo. Questa è una modalità che rende efficace la possibilità di chiudere in tempi, diciamo comunque entro le scadenze, come è stato in questo frangente, il contratto. E poi il contratto l'abbiamo chiuso prima della scadenza naturale, in questo frangente, perché avevamo già valutato con l'ultima tranche del contratto che scade alla fine di questo mese di giugno. C'era una tranche prevista proprio per la fine del mese e che non è nient'altro che diciamo un po' il polmone di garanzia dell'eventuale compensazione dall'inflazione programmata che stabilimmo nel 2018. Siccome l'inflazione programmata non si rappresenta realmente a consuntivo in modo puntuale, la necessità di ragionare anche di questi aspetti lo si valuta con questa tranche. Infatti la tranche è stata annullata e spostata al mese successivo e questa è una modalità, è uno strumento che ci ha consentito anche di risolvere anche una parte del problema economico a consuntivo sull'IPCA consolidata con i dati che erano usciti qualche giorno prima. Perfetto, proprio riguardo al tema dell'inflazione, le volevo fare una domanda relativamente alla parte economica appunto del contratto, il quale riconosce un aumento del trattamento economico minimo di 204 euro e vede un rinnovato ruolo dell'EDR come appunto ammortizzatore degli spostamenti inflattivi. Le volevo chiedere come si differenzia diciamo questo sistema rispetto a quello degli altri principali contratti siglati nell'industria e se pensate appunto che questa scelta sia la più efficace per conciliare le istanze dei lavoratori e le istanze delle aziende. La consideriamo efficace tanto che l'abbiamo rinnovata anche in questo contratto, un modello che abbiamo inserito proprio per generare una flessibilità, cioè le risorse economiche che mettiamo a disposizione vengono erogate e vengono erogate sui minimi, fatto salvo come avvenuto nel luglio del 2021 che a consuntivo dell'inflazione dell'anno precedente abbiamo verificato che quella tranche di aumento sul contratto che doveva andare sui minimi non poteva andarci perché l'inflazione a consuntivo è stata più bassa di quella che era prevista e quindi sono stati spostati nell'EDR. Quindi è un polmone, un polmone flessibile. Ovviamente mettere del salario sull'EDR vuol dire non consentire nessuna incidenza sulle voci della retribuzione, mentre metterla sui minimi incide ed ecco anche una ragione per la quale oggi ci è consentito ciò che era stato messo nell'EDR di spostarlo sui minimi con questo rinnovo del contratto. Quindi l'elemento distinto dalla retribuzione è uno strumento che abbiamo individuato come settore con Fedelchimica e con Farmindustria e che abbiamo rilevato essere efficace. Quindi qui non c'è una discussione ti do ma poi ti tolgo, ma ti do e colloco a secondo della condizione che ci mette l'inflazione, ovvero l'IPCA, rispondendo quindi anche un modello stabilito dalle regole dei modelli contrattuali e quindi coerente anche con quel modello siglato con Confindustria a suo tempo. Perfetto. Passando invece alla parte normativa del contratto, volevo fare una domanda appunto sul welfare contrattuale, che è sempre stato comunque, ha sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza nel settore chimico. Vi è stato un ampio sviluppo negli anni della Previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa. All'interno del rinnovo attuale vi è un nuovo meccanismo per incentivare le adesioni appunto a Previdenza e assistenza sanitaria integrativa. Le vorrei chiedere di descriverlo brevemente e se pensa appunto che questa sia appunto l'opzione migliore per favorire le iscrizioni a questi fondi negoziali. Questo nuovo strumento che dobbiamo introdurre con questo accordo, con questo rinnovo di contratto, quindi in questa vigenza contrattuale, serve per generare maggiore, ulteriore consapevolezza, non tanto dello strumento in sé, perché è un'informativa che viene data alle persone, quindi cogliendo il fatto che la platea di iscritti ai fondi contrattuali, in particolare a quello della Previdenza, ma anche a quello della sanità integrativa, sono numerosi, ci agiliamo intorno all'80% di adesione. E tra l'altro quello del FONCHIM, che è la Previdenza Complementare, è uno storico fondo, è nato nel 1997 dal punto di vista dell'operatività, per cui siamo praticamente, credo, il primo fondo istituito dal punto di vista della Previdenza Complementare e Contrattuale, però ultimamente i neoassunti, la corte, diciamo, più giovane delle lavoratrici e dei lavoratori del settore chimico-farmaceutico, hanno qualche titubanza in più, cioè c'è una, credo, relativamente alla consapevolezza da far maturare meglio sullo strumento e sui benefici che genera uno strumento come il fondo complementare di Previdenza, perché in realtà è naturale nelle cose, cioè un ragazzo che entra nel mondo del lavoro in questi ambiti, ma non solo in questi ambiti, in realtà ha una proiezione a lunghissimo termine del fatto che dovrà andare in pensione, a quali condizioni andarci, quindi non si pone più di tanto la domanda. Ma generare invece una consapevolezza che consenta di entrare nella piattaforma per valutare le proiezioni della propria condizione pensionistica oggi per domani dà una maggiore consapevolezza, quindi metterlo nelle condizioni, in una sorta di, non di adesione, ma di valutazione nel merito, come se fosse un iscritto anche se non lo è, gli dà la possibilità di valutare molto meglio, in modo più puntuale che cosa si genera se si scrive e che cosa non succede se non si scrive. Poi ovviamente rimane alla volontarietà della persona, poter radierlo o meno, però cercare di farlo con il massimo della consapevolezza possibile, perché abbiamo ritenuto e continuiamo a ritenere fondamentale, non importante, fondamentale iscriversi ai fondi complementari, che peraltro hanno un meccanismo di flessibilità, oggi c'è molta più mobilità nel mondo del lavoro, ma questa mobilità è consentita, ci si può spostare da un fondo all'altro e nel frattempo si continua a maturare la propria condizione di integrazione alla pensione per quando ci si andrà. Allora, un'altra domanda fondamentale riguarda le linee guida sulla trasformazione digitale del settore chimico. Volevo chiederle se appunto queste linee guida hanno per caso preso ispirazione dalle esperienze della contrattazione aziendale e quali sono appunto i contenuti più interessanti delle linee guida stesse? Senza dubbio sì, l'analisi della contrattazione a livello aziendale è una delle chiavi per poter produrre delle linee guida che siano il più possibile aderenti e coerenti con le necessità degli obiettivi che ci si pone, soprattutto in questo contratto. Quindi voi che siete ricercatori e quindi lo fate di mestiere, analizzate la contrattazione, lo facciamo noi a nostra volta, a volte collaborando anche direttamente con voi, noi lo facciamo anche come Wiltec e questo ci arricchisce, ci dà un punto di osservazione analitico per capire cosa sta succedendo dal punto di vista delle buone prassi che intervengono a livello aziendale, che vengono esercitate a livello aziendale o prassi da correggere o indirizzi da correggere o impostazioni di approccio. Si pensa ad esempio al grande tema dello smart working o comunque del lavoro agile, ma anche alla necessità di guardare a processi di formazione sulle nuove competenze. È un tema un po' sui generi, si è detto così, ovviamente ci sono delle specificità, bisogna valutarle ed ecco perché insistiamo sulle linee guida e diamo un'indicazione con un nuovo capitolo che nel contratto precedente non c'era, gli aspetti erano più sfumati, adesso invece sono più centrati, più focalizzati e hanno bisogno quindi che nel corso di questa vigenza contrattuale queste linee di indirizzo trovino coerenza nella contrattazione. Più l'avranno e più saremo nelle condizioni con il prossimo rinnovo di andare a normare alcuni aspetti necessari nell'ambito implementando e quindi modernizzando ulteriormente i testi contrattuali e confermare o ampliare o rigenerare nuove linee di indirizzo in una fase di forte trasformazione come quella che stiamo vivendo per cui la transizione ecologica, la transizione energetica, lo sviluppo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale impongono di fatto degli elementi che non possono essere strutturali in questa fase ma work in progress come si direbbero. Per cui il contratto che nella sua natura del contratto chimico dà norma a ciò che è necessario a normare e indirizza ciò che invece è utile favorire nell'ambito della contrattazione aziendale ed ecco qui anche il significato e il valore della contrattazione aziendale che poi è giusto analizzare e valutare cosa che facciamo costantemente anno con anno, accordo per accordo per cercare di mantenere una linea. Gli osservatori poi diranno se siamo in coerenza, se siamo nel percorso giusto oppure dobbiamo correggere il binario. Perfetto, allora io per chiudere questa intervista le farei due domande flash insomma per dare una valutazione generale al rinnovo. Innanzitutto le chiederei quale elemento del rinnovo secondo lei è uno strumento, costituisce uno strumento di innovazione rispetto al rinnovo precedente e anche rispetto agli altri settori, appunto settori merceologici e in ultimo se ritiene che quello raggiunto il 13 di giugno possa essere considerato un buon risultato anche alla luce della piattaforma presentata dal sindacato. Allora va fatta una considerazione, questo rinnovo aveva bisogno di dare una risposta dal punto di vista salariale per cui si è concentrata molto l'attenzione sull'aspetto economico, inutile ricordare qui le ragioni siamo in una fase molto delicata, critica post-pandemica forse, speriamo post-pandemica e anche di fronte a una crisi internazionale generata con il conflitto in Ucraina per cui è tutto quello che ne consegue dal punto di vista delle strumentalizzazioni anche di natura finanziaria e quant'altro per cui la risposta economica era centrale in questo momento ma anche quella normativa, quella appunto legata all'aspetto innovativo è aver generato un intero capitolo ben schematizzato secondo noi che di fatto permette di capire come e su che cosa devo generare l'attenzione nell'ambito della contrattazione aziendale questo direi che è l'elemento fortemente innovativo abbiamo schematizzato anche altri aspetti proprio per facilitare sempre di più il lavoro dei delegati in azienda e anche delle parti che si confrontano in azienda anche quelle aziendali capire bene, individuare bene gli strumenti che sono all'interno del contratto quindi sicurezza, salute, ambiente, ben schematizzata i diritti, i diritti che sono elementi anche di inclusione non solo di welfare ma anche di inclusione legate a tutti questi aspetti anche qua il titolo che dice tutto dice niente della parità di genere ma soprattutto dell'inclusività l'inclusività e il benessere organizzativo sono degli elementi che noi abbiamo introdotto nelle tematiche delle linee di indirizzo e li consideriamo come elementi di innovazione non scriverli nel contratto per avere solamente una bella fotografia di qualche cosa che ci confrontiamo dai vertici delle parti sociali per poi non trovare questo riscontro a livello aziendale per questo che il contratto se non è poi esercitato nel confronto continuo nella formazione congiunta che è uno degli aspetti che caratterizzano le relazioni industriali del nostro settore non ci sono molti altri esempi in giro per cui noi cerchiamo di fare della formazione insieme alle parti datoriali e le parti datoriali insieme a noi con una platea che condivide questi elementi in modo da favorire ancora di più un processo che è di natura culturale quindi vivere bene il contratto nazionale significa anche dargli vita oggi e per il futuro e l'aspetto economico credo che la nostra piattaforma ovviamente aveva ancora l'incognita di che dati sarebbero stati pubblicati poi il 7 di giugno quando l'Istat ha messo a disposizione le proiezioni per i prossimi anni non solo il consultivo ma anche le proiezioni fino al 2025 quindi abbiamo visto che già quest'anno stiamo vivendo un'inflazione particolarmente alta quindi questo elemento ha necessitato di andare anche oltre ma utilizzando lo strumento flessibile che ricordavamo prima cioè quello delle DR e andare a una cifra che riteniamo molto più che soddisfacente da questo punto di vista poi ovviamente c'è l'integrazione della redistribuzione che avviene nella contrattazione aziendale che è fondamentale perché è l'anello che in qualche caso è mancante e quando l'anello è mancante chiaramente il contratto da solo non risponde del tutto dal punto di vista salariale però oggi dà una bella risposta un bel riscontro e credo che sia anche un'influenza rispetto ai contratti che dobbiamo ancora sottoscrivere come categoria in prospettiva ed è anche una risposta diversa da quella che hanno dato i tedeschi ad esempio il sindacato chimico tedesco e non solo il sindacato chimico tedesco ha deciso di spostare la propria contrattazione verso la fine dell'anno da ottobre in poi generando una tantum non per tutti dipende dalle condizioni perché poi l'abbiamo letta sul giornale questa cosa una tantum di 1400 euro no una tantum di 1400 euro a patto che l'azienda sia nelle condizioni di poterli erogare quindi sarebbe interessante capire quanti effettivamente hanno erogato e quanti no però il dato vero politico dal punto di vista delle relazioni sindacali industriali in Germania e non siamo nelle condizioni di fare una tra quali noi stiamo dando in Italia un risposto ai contratti e noi l'abbiamo fatto la ringrazio molto per questa panoramica appunto relativa ai contenuti del più recente rinnovo appunto del contratto collettivo nazionale del settore chimico e la saluto grazie grazie mille buona giornata grazie mille Grazie a tutti